Ma comunque di sinistro... Ecco, con tutti i dettagli. La Monarch sostituirà la biblioteca con un altro laboratorio di ricerca. E perché? Scommetto che stai per dirmelo. Per imporre le loro politiche aziendali. Le cifre parlano chiaro. Stanno comprando la città pezzo per pezzo e nessuno se ne accorge. Brutta storia. Santi, devo incontrare questa persona, ma tu non mollare, ok? D'accordo, vai pure dalla tua bella. Eh, magari. E' messo la divisa. Come scusa? Forza. Ho visto abbastanza merda per riconoscere una guardia. Questo non è il posto giusto per un ficcanaso. Cos'è? Una minaccia? Oh, mi fai tenerezza. Allontanati. Liam Burke, un agente di sicurezza della Monarch. Il nostro primo incontro è stato cordiale, poi mi ha piantato in testa un calcio di fucile. Jack, amico mio. Non ti ho anticipato nulla per un motivo ben preciso. Il progetto a cui lavoriamo cambierà il mondo per sempre. Perché ho il sentore che stia per partire una delle tue infinite presentazioni? Non lo farei mai. Ma guarda. C'è già pronta una presentazione che illustra il progetto. Chi l'avrà messa qui? Chi l'avrà messa qui?